Il costo di prodotti e servizi per le famiglie a retine aumenta anche a giugno, più 0,2% rispetto al mese precedente, lo dice l'ultimo report mensile del comune di Arezzo su base provinciale, sull'indice dei prezzi al consumo che fa registrare una delle impennate maggiori dell'anno. Ad incidere più profondamente sul fronte rincari è lo 0,4% dei prodotti alimentari, lo 0,6% sui trasporti. Beni e servizi cui difficilmente si può fare a meno, sono stabili invece le bollette, ritocchi all'insù anche per una cena fuori, la ristorazione regista uno 0,2% in più, mobili e casalinghi più 0,3%. Calano i prezzi sul fronte delle comunicazioni, meno 1,1%, queste le oscillazioni nell'arco di un mese. I prezzi, nonostante la fortissima contrazione dei consumi, continuano ad aumentare, non al galoppo come a gennaio quando fu registrato un più 2,3% nell'arco di 12 mesi. Comunque trottano come l'1,4% tra giugno 2012 e giugno 2013. Il rincaro maggiore, nemmeno a dirlo, è quello sul cibo. I prodotti alimentari e le bevande alcoliche in un anno sono aumentati del 3,6%, seguono a distanza mobile prodotti per la casa, istruzione, abbigliamento e calzature. Tra i servizi fondamentali c'è poi da sottolineare quello registrato sul versante delle spese per medicine e prestazioni sanitarie, più 1,3%. Dopo le stangate inizio anno, più contenuti invece gli aumenti delle bollette.